Oscar Luigi Scalfaro è stato un buon presidente. Questo il pensiero della maggior parte degli italiani che domenica 29 gennaio hanno appreso dalla morte del presidente in merito della Repubblica, in carica dal 1992 al 1999. Era nato il 9 settembre del 1918 a Novara e fu deputato dal 1946 al 1992. Scalfaro, insieme a Sandro Pertini ed Enrico De Nicola, ha ricoperto tutte le tre più alte cariche dello Stato. Ma sentiamo quale ricordo conservano i bergamaschi di questa importante personalità del nostro paese. Ero un ottimo presidente della Repubblica. Dopo non è credo che riesca a ricordarmi di altro. Così, sul momento minimo, non ricordo niente. Un negativo. Mi sembra che sia stato un presidente della Repubblica troppo invasivo, diciamo, rispetto alla politica. Dovrebbe essere un ottavo presidente italiano. Un buon ricordo, una persona che ha fatto tanto per la nazione. Uno dei vecchi, insomma. Uno dei vecchi che se n'è andato. Ah beh, un buon ricordo, un buon ricordo. Mi sembra che lo chiamassero il piccolatore, no? Eh, questo mi ha detto, sono passato tanti anni, non è che mi ricordo molto. So che era una persona onesta, almeno, spero. Di Scalfaro, ho senz'altro un ricordo molto positivo. Uno dei nostri tanti presidenti ultimi molto importanti nella gestione della democrazia in Italia.